Ciao a tutti! Oggi prepariamo un finger food molto accattivante perché useremo due ingredienti particolari, pasta fillo e fiori eduli. In tutto ci serviranno questi ingredienti, come dicevo, pasta fillo, ricotta, grana, fiori eduli, spinaci già lessati, olio d'oliva e sale. Procediamo, intanto prepariamo il ripieno e mettiamo la ricotta in una ciotola, assieme agli spinaci e al grana. Mettiamo un pizzichino di sale e amalgamiamo. A questo punto spennendo un po' di olio sopra il primo strato di pasta fillo e appoggio il primo fiorellino. Prendo il secondo strato di pasta fillo e schiaccio bene. Qui metto il ripieno che comincio ad arrotolare in questo modo. Quindi sul finale mi resterà il fiorellino in trasparenza. Spennendo con un pochino di olio extravergine d'oliva metto al forno per un quarto d'ora a 180 gradi. Il nostro esotico finger food è pronto. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao da Rossella!